Salve a tutti, io sono felicissimo, nonché onoratissimo di avere con noi il dottore Giovanni Corso. Il dottore Giovanni Corso è un chirurgo, è un senologo, ricercatore universitario presso l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Si occupa principalmente di tumori mammari ereditari e ha pubblicato più di 200 articoli scientifici su tantissime riviste, non solo italiane. E' anche il presidente della European Cancer Prevention Organization e ha ricevuto tantissimi premi per la sua ricerca sul cancro, tant'è che è stato il simbito tra i più influenti scienziati al mondo. Ed è stato anche inserito nella lista dei World 2% Top Scientist realizzata dai ricercatori della Stanford University. Complimenti Giovanni per la tua carriera, sei veramente straordinario, sono onoratissimo di averti qui con noi. Grazie, grazie Leonardo per questo invito speciale. Io ho 46 anni e la mia carriera in realtà inizia molto presto, sin dai tempi dell'università, quindi siamo nel lontano 1996. Posso dire che la mia vita universitaria è stata molto bella, ma piena di sacrifici. Ho dedicato tutti i miei anni della gioventù agli studi. In realtà questo è un aspetto che oggi, non so se rifarei, però mi è piaciuto molto quello che ho fatto. Mi svegliavo prestissimo la mattina alle 5, questo l'ho anche detto in alcune interviste, per studiare. C'era voglia di cambiare un noi, il nostro futuro e anche probabilmente il futuro degli altri, senza però sapere oggettivamente bene a cosa andavamo incontro. Però impegnavamo tutto il nostro tempo libero a studiare e in quel momento non mi pesava, insomma non mi pesava molto, però mi piaceva ed è ovviamente stato associato a tantissime rinunce personali. Dopo l'università di Siena ho fatto anche la specializzazione in chirurgia generale, sempre nella stessa università degli studi di Siena e successivamente ho cominciato durante la specializzazione un percorso un po' bizzarro per un chirurgo a fare ricerca e soprattutto in laboratorio. Dopo questa parentesi ho affrontato un dottorato di ricerca in medicina e oncologia molecolare in Portogallo a Porto, in quanto all'inizio io mi occupavo principalmente di cancro gastrico, di tumore gastrico. E qui c'era un discorso di incidenza perché in Toscana e in Portogallo vi erano tantissime persone che venivano colpite da questo tumore dello stomaco. E quindi ovviamente io mi sono dedicato tantissimo agli studi soprattutto molecolari e di fattori di rischio di sviluppo del cancro gastrico. Cominciato a Siena ho continuato poi in Portogallo a Porto dove ho lavorato in un ottimo centro di ricerca di Patimup. E qui abbiamo anche ottenuto risultati estremamente straordinari che sono anche stati riconosciuti meritevoli di premio all'ASCON. Non so se sai, l'ASCON è l'American Society of Clinical Oncology a San Francisco. Nel 2011 io ho ricevuto questo premio come dire internazionale molto molto prezioso e molto ambito. Successivamente al termine del dottorato poi sono venuto qui a Milano all'Istituto Europeo di Oncologia e ho continuato come dire i miei interessi nella ricerca soprattutto per quanto riguarda i tumori ereditari. Ecco quindi mi occupo sostanzialmente di chirurgia mammaria. Sono appunto chirurgo e porto avanti la mia attività clinica quotidiana. Parallelamente poi mi occupo anche di tumori ereditari del seno per i geni famosi sappiamo di cosiddetti di Angelina Jolie anche se non è corretta questa definizione. Quindi il BRCA1 e il BRCA2. Ma in realtà il mio topic principale, il mio interesse principale è rivolto al gene del CDH1. Questo gene è molto raro per fortuna ma molto importante, molto impattante nella donna. è un gene che colpisce un particolare tipo di tumori al seno e anche del tumore dello stomaco. Ecco vediamo che c'è questa correlazione come dire clinica e molecolare di due tumori apparentemente estremamente diversi. Questo gene se diciamo potrebbe interessare è un gene che ha una funzione di mantenere a bada le nostre cellule, di tenerle buone. Cerco di semplificare ovviamente affinché non vadano incontro ad un processo disordinato per cui poi possano causare insorgenza tumorale. È evidente che quando questo gene non funziona più le cellule vanno incontro ad una alterazione importante per cui vanno incontro alla metassasi a distanza e quindi causano un impatto importante sulla persona. E non vorrei aprire e chiudere una piccola parentesi come un piccolo vanto. Sono considerato dalle statistiche americane uno dei più grandi esperti a livello sicuramente europeo ma verosimilmente anche a livello mondiale di questo gene del CDH1 che codifica per la proteina che si chiama la proteina la caderina epiteliale. I miei studi vanno avanti, attualmente lavoro in maniera abbastanza serrata, mi occupo attualmente anche di prevenzione soprattutto nelle popolazioni sane, in quelle persone che oggettivamente un po' si trascurano. Sappiamo che la prevenzione non è infilarsi all'interno di un macchinario super tecnico e super specializzato per poter trovare magari qualcosa in noi di anomalo. No, la prevenzione nasce dal nostro stile di vita quotidiano. Sostanzialmente epidemiologi e statistici entro il 2070, secondo questa proiezione, ci dicono che se dovessimo completamente abbandonare tabacco, correggere completamente l'obesità e eliminare l'alcol, possiamo abbattere tantissimo l'incidenza dei tumori nel mondo e anche migliorare tantissimo la sopravvivenza in individui che già hanno avuto un cancro. Quindi poniamoci questo obiettivo nel 2070. Non è un'utopia eliminare completamente il tabacco, l'alcol. So che ci sono un po' di, come dire, diciamo, contrasti sull'alcol, però i dati dimostrano che l'alcol è un importante fattore di rischio oncologico e anche la correzione dell'obesità. Qui parliamo di prevenzione primaria, che tutti possiamo fare. Persone che stanno bene, persone che stanno meno bene. Quindi la prevenzione primaria riguarda tantissimo la popolazione generale, i cosiddetti individui sani. La prevenzione secondaria è un po', come dire, più specifica riguardo gli screening, quindi la mammografia, gli screening della tumori per la cervice otterina, quindi il cosiddetto famoso PAPTESI, lo screening colorettale. E in Italia c'è ancora oggi una eterogenità importante. Abbiamo i dati dell'IOM, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, che dimostra chiaramente che purtroppo ci sono delle divergenze, delle disparità, molto significative tra nord, centro, sud e isole. Perché? Perché sembra, non sembra, è così un dato di fatto, le popolazioni del sud Italia e delle isole fanno meno screening rispetto alle popolazioni del nord. Però questo non è da colpevolizzare le persone assolutamente, ma è dovuto al fatto che non c'è una copertura sufficiente di inviti, di programmi, di screening estesi sul territorio del centro-sud, soprattutto del sud e delle isole. Non entrerei nella questione di chi è la responsabilità, perché rischiamo, come dire, in maniera significativa, però è un'evidenza del fatto. Anzi, nel sud probabilmente le persone, la popolazione è più virtuosa rispetto al nord, perché aderisce maggiormente agli screening rispetto a quanto viene proposto dal sistema sanitario locale. Quindi questo è un dato fondamentale. Evidentemente le persone non sono assolutamente stupide, come magari si potrebbe pensare. Questo è un dato fondamentale. Quindi come obiettivi per la riduzione dell'incidenza del cancro è eliminare i fattori di rischio e aderire agli screening. Lo screening non vuol dire guarire oppure non avere un cancro, se io partecipo a uno screening. Lo screening permette di identificare una lesione tumorale molto piccola e quindi di avere possibilità di guarire sino a oltre il 90%. Quindi possiamo immaginare l'impatto significativo anche sul sistema sanitario nazionale. Questa è la mia carriera. Mi ringrazio veramente tanto anche per questi preziosi consigli che tutti spero ascolteranno. Ma io volevo chiedere, io so, visto che sei proprio un chirurgo appassionato, ma come nasce la tua passione? Da cosa deriva? Perché la passione per la chirurgia è molto remota. In realtà io già frequentavo il terzo anno di medicina, il quarto anno, e mi trovai così per caso in sala operatoria a vedere un intervento chirurgico proprio di tipo senologico, di mastectomia. E quindi poi questo è rimasto. Però io quando studiavo medicina ricordo che non c'era un argomento specifico che mi piaceva di più rispetto ad un altro. Tutto quello che studiavo, poi avrei voluto fare quello. studiavo chimica, ma io forse dovevo fare il chimico. Se usiavo anatomia umana, allora dovevo fare l'anatopopatologo. Insomma, era un continuo. E tutti gli argomenti mi sono piaciuti in maniera, come dire, molto, molto profonda. Alla fine sono entrato in sala operatoria nel 2000, la prima volta, che ero studente del terzo, fine terzo anno, inizio quarto anno, e sono rimasto. Non sono mai più uscito dalla sala operatoria. Quello che dico io appunto sempre ai miei studenti è la passione. Tu, appassionato, chirurgo, eccetera, come vedi, sei in gambissima, sei un banto per l'Italia intera e di questo io ne vado molto fiero. Ma quali sono le sfide principali che incontri nella tua attività clinica, ma anche scientifica? Le sfide principali nell'attività clinica sono tante. Sono le difficoltà di interazione con il paziente, soprattutto nel dover comunicare la diagnosi. Noi dobbiamo sempre dire la verità al paziente e non dobbiamo indorare la pillola, ma soprattutto noi per scuola grazie anche al nostro grande professore Umberto Veronesi non dobbiamo spaventare mai il paziente, anche di fronte alla situazione più grave. È importante avvisare il paziente di tutti gli effetti avversi, anche la cosa va incontro e soprattutto non ragionare con il paziente in termini numerici e di percentuali, perché le percentuali non vanno mai bene, vanno sempre generalizzate, non vanno mai bene per la persona singola, ma vanno generalizzate in una popolazione più stessa. Quindi la prima sfida a livello clinico è, come dire, l'impatto con il paziente stesso, soprattutto nel dover comunicare spesso notizie negative. Ovviamente io sono sempre presente con il paziente, telefono spesso, insomma, soprattutto le seguo anche dopo che le ho operate. Da un punto di vista scientifico le sfide sono paradossalmente più difficili, sono più ardue, perché spesso il nostro impegno da un punto di vista scientifico non viene ripagato dai risultati. Noi applichiamo 100, ma non raramente i risultati sono anche zero. Quindi questo è purtroppo la, come dire, la doppia faccia della ricerca. Come per esempio scrivere un articolo scientifico, oggi è sempre più difficile anche pubblicarlo. È molto facile che venga rigettato dalle varie riviste scientifiche, ma anche io faccio questo lavoro un po' di censore, di revisore, perché sono editor in chief della rivista European Journal of Cancer Prevention e spesso mi trovo a rigettare articoli scientifici che ne abbiamo, riceviamo una quantità, come dire, importante e molto elevata. Questo, le sfide della ricerca anche da un punto di vista futuristico, sono l'utilizzo di nuovi strumenti per poter, ovviamente, raggiungere la cura. Sappiamo che anche la ricerca di base purtroppo spesso rimane limitata a se stessa. Quante volte leggiamo Leonardo sui quotidiani è scoperta la proteina, però poi rimane lì. Non c'è un impatto, come dire, immediato e la ricerca di base è questo. Non c'è un impatto immediato nella clinica, nella salvezza, nella cura di una persona. Questo è il discorso. E allora qui è importante che ci sia la ricerca traslazionale, cioè una ricerca che dal letto del paziente venga in laboratorio, per cui essere poi, come dire, trasferita di nuovo al letto del paziente. Quindi osservare, questa è almeno l'educazione, la formazione che ho avuto io, osservare il paziente, vedere che cosa ha, trasferire queste informazioni in laboratorio, elaborarle, attraverso magari un dato di genetica, di biomarcature, e poi riportarlo al paziente stesso per il suo beneficio. Io ti ringrazio perché nel frattempo hai spoilerato anche una domanda che ti volevo fare che era appunto quella della divulgazione scientifica, perché ti occupi anche di questo e ne hai parlato nella tua risposta e quindi ti ringrazio. Ma ti volevo chiedere, abbiamo parlato appunto di prevenzione, al cancro al segreditario, le raccomandazioni che abbiamo dato, sicuramente stai lavorando a qualcosa di importante. Ci puoi spoilerare qualcosa? Qualcosa di importante esattamente. Io ho già identificato una forma rara di tumore ereditario al seno che abbiamo pubblicato di recente, proprio alcuni mesi fa, che è il carcinoma metaplastico. Adesso mi sto occupando di un'altra forma rara ereditaria che ho codificato io, che ho avuto dei sospetti, ho un po' analizzato la letteratura, ma Leorardo, credimi, sono anni che porto avanti questa cosa e non è purtroppo immediato perché c'è tanto da lavorare. Questa forma ereditaria è comunque il carcinoma lobulare ereditario associato al CDH1, quella gene di cui poco, anzi, parlavo, che ho appunto codificato io attraverso dei criteri clinici ben precisi e a breve avremo anche i risultati del laboratorio, quindi i risultati del test genetico che confermano la mia teoria. Siamo di fronte ad una situazione rara, però importante di ereditarietà di questo tumore lobulare. Abbiamo anche scritto i nuovi criteri di selezione perché non tutte le pazienti possono fare questo test genetico che verranno appunto a breve pubblicate sulle linee guida dell'IOM dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica. Ma tutto nasce nel 2016 quando io ho vinto un progetto con il Ministero della Salute per un finanziamento importante di 450 mila euro che mi ha permesso di tradurre in pratica questa mia teoria che già andava avanti da molti anni, da alcuni anni. Quindi puoi immaginare benissimo da quanti anni ci lavoriamo su questo progetto e soprattutto quanto tempo passa affinché tu abbia poi un risultato pratico. Ci siamo quasi comunque. complimenti Giovanni veramente complimenti e tantissimi in bocca al lupo per la tua ricerca. Ti voglio chiedere sicuramente ci sono tanti momenti significativi della tua carriera scientifica alcuni ve ne hai parlato adesso e da tanti anni che fai questa professione quindi avrai avuto modo di vedere evolversi delle chirurgie senologiche nel corso di questi anni. L'intelligenza artificiale sta alla grande entrando in tutti i settori ne siete consapevoli ne sei consapevoli sicuramente anche tu in qualche modo vi sta aiutando o vi ha aiutato già? L'intelligenza artificiale sicuramente è un fenomeno da non sottovalutare dobbiamo tenerlo in considerazione dobbiamo ancora valutare e vedere quali sono le applicabilità come dire della intelligenza artificiale in ambito clinico al momento credo che abbia più valore probabilmente nell'ambito della ricerca in ambito umano interumano perché noi facciamo anche questo lavoro noi medici interumano cioè agiamo con il paziente non solo da un punto di vista tecnico quindi come dire strumentale di diagnosi eccetera ma anche di empatia non so al momento quale sarà l'impatto dell'intelligenza artificiale ho espresso alcune dubbi sull'immediata applicabilità sono stato aggredito anche da colleghi però oggettivamente io al momento non vedo da un punto di vista pratico una fattibilità dell'intelligenza artificiale però sicuramente in futuro avremo grandi risvolti lo spero che non venga utilizzato solo per applicazioni diciamo così spettacolari ma è probabile che vada rimodulata in un certo senso piuttosto che in un altro perché ovviamente poi verrà diciamo enfatizzata e ci troveremo di fronte ad un assetto tecnologico che supera un po' anche le nostre capacità di comprensione e di adattamento per cui ci potrebbero essere queste difficoltà un'ultima domanda e poi ti lascio al tuo importante lavoro da chirurgo appassionato che messaggio rivolgeresti ai miei studenti e ai tuoi studenti per appassionarsi alla tua professione nasce da un interesse personale questo Leonardo se c'è interesse amore e passione per un argomento per un mestiere per un qualsiasi per una qualsiasi cosa e allora è importante vedi che poi viene tutto da sé viene tutto facile anche nella carriera quello che io dico ai miei colleghi e soprattutto ma credo che si possa estendere a tutti i settori è di amare tutti i tipi di lavoro che vengono proposti anche quelli che non confanno ai nostri titoli anche io ho dovuto fare svolgere delle mansioni che non erano come dire idonee ai miei titoli li ho tenuti li ho fatti con amore e compassione e sono stato premiato per questo non posso far altro che dirti di sì caro Giovanni è quello che dico io ogni giorno ai miei studenti appassionati qualsiasi cosa essa sia fatelo con passione sicuramente sarete bravissimi io ti ringrazio ancora una volta grazie per essere stato qui con noi spero che i miei studenti e le mie studentesse ascoltino i tuoi preziosi messaggi grazie ancora Giovanni grazie Leonardo a presto